segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te entrambi avete sentito salvini che sul tema della flat tax che lui però c'è illustrato delle coperture no ma le coperture non è così il vostro giudizio io mi sono letto il disegno di legge siri salvini le coperture sono fantasiose perché dicono questa roba genererà più reddito e quindi si auto coprirà che è una cosa che scrivono in terza elementare i bambini quando coprono le leggi finanziarie ma il mio punto è un altro io la domanda che ho fatto via twitter a salvini e che gli avrei voluto fare prima ma se stai dicendo agli italiani da tanti anni che vuoi mettere il 15 per cento di aliquota a tutti perché nella tua proposta di legge c'è scritto ad esempio che una famiglia monoreddito con 55 mila euro di reddito c'ha il 30 per cento di aliquota e non è la sola perché la proposta di flat tax di salvini c'ha 18 aliquote ora ne abbiamo quattro per chi ci sta a casa allora qui siamo di fronte a un caso in cui un partito politico che ha fatto dell'aliquota unica semplice la sua bandiera in realtà ha una proposta che di aliquote ne ha 18 e invece se non progressivamente per andare verso ma guardi scrivere una riga però in futuro cambieremo ci vuole poco ma tu intanto hai fatto una proposta di legge tutta ben confezionata con 18 aliquote e che semplificazione per il fisco andare a 18 aliquote noi proponiamo di passare da un manuale di istruzioni dell'irpef che ha 341 pagine a uno di dieci con alcune idee molto chiare minimo esente tre aliquote spostiamo tutte le deduzioni e detrazione al rimborso diretto così è più facile per i cittadini così sistema fiscale si alleggerisce si semplifica e questo è il vero fattore che ci dà una competitività in più unità le aliquote non è già adesso sono quattro le abbiamo portate da 5 a 4 ma non è un conto al numero delle aliquote il punto è quanto è semplice il sistema con un 341 pagine di manuale a investire in italia non viene nessuno senza un codice tributario unico a investire in italia non viene nessuno mi sono perso